Tre punti che fanno bene al morale e alla classifica. La Cremonese batte 2 a 1 e Lumezzane grazie alla doppietta dell'incontenibile Brighenti, giocatore di un'altra categoria. La squadra di Pea mette in campo grinta e determinazione, si porta meritatamente avanti di due reti, soffre senza mai sbandare dopo aver incassato il gol che nel finale rimette in partita gli avversari. La partita inizia con la punizione di Varas, che trova pronto Ravaglia e prosegue con l'uscita tempestiva del numero 1 grigio-rosso sui piedi di Cruz. Al ventesimo si sblocca il risultato, Rosso apre per Crialese che va al cross dalla sinistra e Brighenti in area risolve spedendo rabbiosamente in fondo al sacco. La reazione del Lumezzane è tutta nel tiro dal limite di Barbuti, parato senza problemi, e nella conclusione di Russini che non inquadra lo specchio della porta. A inizio ripresa ecco il raddoppio della Cremo, Brighenti mette a segno un gol da Cineteca lasciando sul posto Nossa e facendo fuori poi Belotti e il portiere Furlan. È il sesto centro del capitano che sale così al comando della classifica dei cannonieri. A riportare in partita il Lumezzane è una carambola sugli sviluppi di una punizione di Varas. Zullo colpisce di testa, la palla colpisce Belotti e si dirige verso l'angolino, con Monticone che sfiora soltanto ma mandando fuori giri Ravaglia in uscita. La Cremo si compatta, soffre il giusto e sfiora più volte il terzo gol. Furlan respinge un gran tiro di Formiconi, poi Guglielmotti rimette in mezzo per Maiorino che segna di testa, ma per l'assistente la palla era uscita sul fondo al momento del cross e la rete viene annullata. Tra il 34esimo e il 35esimo è sempre Maiorino ad avere le occasioni più ghiotte per chiudere la contesa, ma l'ex della Torres prima spedisce a lato dopo la corta respinta di Monticone, poi tenta un difficile pallonetto che si spegne sul fondo sull'uscita del portiere. La vittoria riavvicina la Cremo ai quartieri alti della classifica e domenica si va a Piacenza contro la Pro allenata dall'ex Viali.